E' finita, E' fi-ni-ta, E' fi-ni-ta, Juventus Benfica, ed è finita, uno a due, uno a due, che vergogna, che vergogna mamma mia, che vergogna sinceramente, avanti ai tuoi tifosi, nel tuo stadio, e giochi così, e entri, e te ne esci, e te ne esci così male, così male, lasciando indietro uno schifo, lasciando indietro una vergogna, vi dovete solo vergognare, e non è la colpa solo di Allegri, la colpa è di tutti, la colpa è di tutti, ragazzuoli, ma comunque, prima che io continui a parlare di questo dipartito, di certo parlo a bassa voce, perché non posso parlare ad alta voce, se non l'avrei fatto sinceramente. Ciao a tutti, se vi va, se volete subitare il mio canale, lasciate un bel like, iscrivendovi e attivando la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò, qui sotto i link dei miei, dei miei altri social network, grazie mille per chi mi supporterà, e nient'altro, grazie, grazie tantissimo, e inizierei, e continuerei a parlare, e continuerei, mamma mia ragazzone, mamma mia, che schifo, più ci penso, più mi dico, ma Iones, ma come ti sei permesso, come ti sei permesso, no, ma come ho fatto, come ho fatto, e ho resistito a vedere una Juventus così, cioè, per lo più che resistire, cioè, sto facendo uscire dalle parole, che neanche eviterei, eviterei di far uscire, ma, che cosa ho visto prima, cioè, mi chiedo, che cosa ho visto prima, che Juventus ho visto prima, questo è una Juventus semplicemente, scandalosa, orrenda, orrenda, sinceramente, orrenda sotto ogni punto di vista, sotto ogni punto di vista, né gioco, né niente, sei andato a segnare il primo gol con Milik, poi, boom, spariti, spariti definitivamente, spariti, e questo risultato, c'è qualche persona da dover ringraziare, Perini e Leonardo Bonucci, perché Bonucci con le sue di entrate, e Perini con le sue di parate, se non le avessero fatte, se avessero sbagliato nelle situazioni dove potevamo subire gol, saremmo a parlare di una vergogna indescrivibile, di una vergogna indescrivibile, di un qualcosa di clamoroso, perché poteva finire per ben 4, 5, 6, ma dicevo, la Juventus che pienamente segna il gol e non dà reazione, e la colpa è pienamente di tutti, la colpa è pienamente di tutti, ma resta certo e ovvio, se domani mattina mi sveglio e trovo allegro e esonerato, ma esulterai dalla felicità, perché a questa squadra serve un allenatore che dia una dritta, un allenatore che dia una dritta, e che ti mette in queste teste, che stai con la maglia della Juventus, e metta in testa a questi esseri umani che scendono in campo di giocare a calcio, serve qualcuno, ripeto, un allenatore che li faccia giocare a calcio, che li faccia giocare a calcio, in primis, poi farli risvegliare, ma rimane il fatto che, primo tempo, dopo il gol, spariti, Benfica, c'ha ben 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 benfica, c'ha ben 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 benficato per bene, per bene, per bene proprio, per bene, il rigore Miretti veramente scandaloso, scandaloso lì sinceramente, l'ha giocato anche pur male, l'ha giocato assolutamente male, ma male, ma male, Gio Amario che segna, prendere gol da Gio Amario quanto veramente fa schifo, quanto veramente fa schifo pensando anche al passato, e poi prendi gol da, prendi gol pure da David Neres, qualcosa veramente di pazzesco, di pazzesco dopo varie ribattute, dopo una difesa veramente scandalosa, nel gol di Neres, lasciato da solo, secondo tempo è stato tutto Benfica, una Juventus con palla del piede, veramente molto lenta, 777 errori, i giocatori sembravano strastaghi, come se avessero fatto qualcosa, come se avessero fatto qualcosa, la Juventus non ha giocato, tranne i primi 10 minuti, la prima decina di minuti, 15 minuti, dai, esagero pure, ma poi veramente solo Benfica, solo Benfica, il secondo tempo Benfica ha fatto veramente un secondo tempo straordinario, straordinario, come dicevo, palla al piede, due anni per passarla, niente idee, né niente, lentezza nel pallone, zero idee nella fase offensiva, gli esterni morti, gli esterni veramente come dei cadaveri, Vlaovic lì che non gli arrivano palloni, lì isolato, come se non ci fosse nessuno lì, sinceramente, ah ma è una Juventus veramente orribile, orribile lo ripeterei tantissimo, ma rimane il fatto che la primissima cosa qua da cambiare è Allegri, è Allegri, è Allegri, ripeto per la minese volta, un qualcuno, un allenatore che dia una dritta a questa di squadra, che dia una dritta, che gli metta a posto le teste, le loro di teste, le teste a questi fottuti giocatori, che gli metta a posto le teste a questi fottuti giocatori, perché con Allegri sarà difficilissimo, sarà veramente difficile, 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 veramente, e che potrei aggiungere, cioè, che potrei aggiungere per finire proprio perché è inutile, sono le stesse cose che posso dire per la millese volta, una Juventus orrenda, vergognosa, schifosa, una prestazione di merda, dopo il gol, dopo i primi dieci, dai dieci minuti, niente, una Juventus pienamente morta, tutti dietro, Benfica pian piano, è entrata nel giù dalla partita, e poi nel secondo tempo ha preso per bella dritta e ci ha mangiati, e ci ha mangiati veramente, ci ha mangiati, Benfica ha mangiato la Juventus, ci ha pienamente mangiati per bene, per bene, grazie solo a Bonucci e a Perini che ci siamo salvati, veramente qualcosa di pazzesco, incredibile. E qua chiuderei proprio il discorso. Poi i cambi tutti veramente inutili, fai uscire Milik, fai uscire Miretti, stai con due centrocampisti in mezzo, e lì veramente è stato pure un momento dove il Benfica ha avuto una libertà stratosferica lì in mezzo. Ha avuto una libertà veramente stratosferica. Stratosferica. E non è che potrei dire. Tutti entrati male. Tutti entrati male, sinceramente. Non ce n'è uno che è entrato bene in partita da quelli in panchino, non ce n'è uno. Ken e Di Maria che hanno fatto qualche giocata al palo e il passaggio De Sciglio col gol, fuori gioco di Mattia De Sciglio, ma vergognatevi, vergognatevi. La dirigenza che si deve veramente solo vergognare per la scelta che ha fatto. Per la scelta che ha fatto. Qualcosa di orribile. Allegri per piacere, per piacere, per piacere di dimettiti. Per piacere, me lo auguro. Me lo auguro che ti vada a dimettere, nonostante con quel focollaio di soldi che prendi, magari se trovasse una soluzione, magari domani mattina mi sveglio. Allegri esonerato. Incredibile. A me dispiace, poi adesso si rischia. Si rischia. Ok, che non è quella decisiva, ma dopo due sconfitte consecutive, per forza c'è la paura, c'è grandissima, grandissima paura nel poter finire in Europa League. Perché il Benfica è una squadra, è una gran squadra. ma che posso solo dire. Nonostante sto schifo, orrendo, oscena, sta schifosa, orrenda, oscena, prestazioni di merda da parte della Juventus, l'unica parola che si può dire dopo questa dipartita, per poter passare, speriamo. speriamo. Speriamo che che qualche squadra, che il Benfica o il PSG si inciampino, si inciampino, ma dalla prossima bisogna vincere. Contro il Maccaio bisogna pienamente che vincere, non aggiungere altro. Sinceramente, poi con la voce bassa, con il dispiacere, tantissimo, e più dispiacere, e nello stesso tempo, rabbia nell'essere arrivato a vedere una Juventus avanti i suoi tifosi che fan zero. Identità di gioco niente, fase offensiva zero, tutto zero, tutto valutato zero. Sinceramente, probabilmente non farò le pagine, ma se le farò sono pienamente che curioso nel sapere che cosa avrà detto quel pagliaccio, bastare o di allegri. Sinceramente. Mi dispiace dire queste parole, ma dimentiti per piacere, dimentiti, dimentiti, dimettiti, dimettiti, vattene via, vattene via, vattene via, e vattene via. Stop. E spero che mi abbiate capito, nonostante potevo fare meno minuti. E ciao ciao. E nonostante tutto, fino alla fine, forza Juventus, solamente nonostante il tutto, ma comunque di certo, sempre forza Juventus, ma rimane sempre lo schifo, la rabbia, la percezione schifosa, merdosa che c'è stata da parte della Juve, lo schifo che ha fatto, lo schifo che c'è stato. Ciao ciao. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti.